Tirreno Adriatico, una tradizione ciclistica che si rinnova per la città di Chieti, che risale addirittura alla prima volta del Giro d'Italia. Sì, Chieti, come ho detto poc'anzi, è stata presa già in considerazione dalla Gazzetta dello Sport nel 1909. Una tradizione che si è ripetuta negli anni perché Chieti è stata più volte città di tappa e di partenza. L'ultima volta che il Giro d'Italia è stata a Chieti nel 2009, che era il Giro del Centenario, c'è stata una bellissima tappa alla Chieti Blockhouse. Successivamente l'RCS, vista la buona riuscita della tappa, ma soprattutto l'ottima amicizia che si è creata, mi hanno proposto, se volevo continuare in questa tradizione, che io, nella considerazione del fatto che il Giro d'Italia ha una valenza economica abbastanza importante, per questi due anni mi sono riproposto di portare a Chieti la Tirreno Adriatico. Questo è il secondo anno, per la seconda volta a Chieti avrà una tappa importante e per il secondo anno Chieti sarà visibile a tutto il mondo sportivo e non. A proposito, la tappa è del 12 marzo, la quarta, Narnichieti, un percorso che lei forse avrebbe voluto un po' diverso? Sì, all'inizio avrebbe voluto un pochino diverso, però purtroppo per entrare in Abruzzo bisogna per forza parte dalla provincia di Terni, bisogna per forza di cose passare per la provincia di Rieti e entrare nella provincia Aquilana per poi arrivare qua. Avevamo pensato di mettere nel circuito Passo Lanciano, la salita di Passo Lanciano dal settore pescarese, però poi meno male che abbiamo provveduto diversamente perché con il maltempo degli ultimi giorni c'è tantissima neve e avremmo avuto difficoltà anche nel pulire le strade. Però comunque posso assicurare che gli ultimi 60 chilometri saranno selettivi e impegnativi con un arrivo fantastico qui nella città di Chieti. Il percorso, descriviamolo brevemente, perlomeno negli ultimi 70 chilometri. Sì, il percorso entrerà nella provincia di Chieti passando da Manopello Scalo, poi ci sarà la salita verso Casale Incontrada, la ridiscesa verso Bucchianico dove percorrerà per un brevissimo tratto la Fondovalle che collega Maremonti-Francavilla-Guardia Grele, poi salirà a Bucchianico, poi ci sarà un mangio e beve, così come viene chiamato nel gergo ciclistico fra Bucchianico, Villamagna, Ripa e Torrevecchie, non ci sarà un metro di pianura, soltanto discese e salite abbastanza impegnative per arrivare qui a Chieti con due salite a sequenza, con una pendenza media del 16% e una pendenza massima del 20%. Dallo scollinamento dove è posto il gran premio della montagna, all'arrivo sarà esattamente un chilometro, chi scollinerà per primo vincerà la tappa di Chieti e forse anche la terreno adriatica. Tappa assolutamente spettacolare, oltre che cruciale. Sì, è spettacolare, è cruciale, io mi auguro che gli spettatori ne siano abbastanza come l'anno scorso e mi auguro anche che la città di Chieti capisca gli sforzi dell'amministrazione, gli sforzi miei personali, affinché ci sia un folto pubblico qui sul Corso Maroccino. E il giorno dopo anche per salutare la partenza della Quinta Tappa. La partenza verrà questa volta dalla parte bassa perché c'è stato questo connubio di città alta e città bassa, la partenza verrà davanti alla sede generale della Carichieti, ci sarà un piccolo percorso turistico nella cittadina di Chietiscalo per poi partire verso Castelremonti in provincia di Macerata.